Successo per l'agnello IGP di Sardegna al TuttoFood di Milano, dove l'eccellenza dell'agroalimentare sardo ha avuto un proprio stand che secondo il consorzio Contast è stato frequentatissimo da visitatori e buyers. Apprezzate in particolare le nuove proposte di taglio della carne e di piatti pronti. Con l'agnello si possono fare hamburger, tartare, polpette, panadas, tutti prodotti molto apprezzati nella fiera internazionale del cibo. Una presenza costante per il consorzio, quella al TuttoFood, che quest'anno per la prima volta ha proposto anche piatti cucinati sul posto, grazie alla collaborazione dell'azienda La Genuina di Ploaghe. Nel nostro stand, dice il direttore del Contast, Alessandro Mazzette, abbiamo preparato e offerto circa 3.500 assaggi. Molto apprezzati gli abbinamenti delle tartare con il vermentino della cantina di Dorgali e dell'agnello al carciofo spinoso d'op con il caronaude Addis di Sedini. Grande successo di hamburger, polpette e panadas apprezzati soprattutto dai consumatori più giovani che in gran numero hanno visitato i nostri stand. I gusti dei consumatori sono vari, per questo è fondamentale diversificare l'offerta, afferma il presidente del Contast, Battista Qualbu. Sono un'occasione alle fiere di successo come il TuttoFood, dove il confronto con i buyer di tutto il mondo aiuta a capire le tendenze a creare nuove proposte. Oggi non basta più la qualità, bisogna saperla comunicare, andare incontro alle nuove tendenze e allargare il mercato, conclude Qualbu. I nuovi prodotti che il Contast sta sperimentando insieme alla Genuina mirano a valorizzare tutta la carne dell'agnello e non solo i tagli tradizionali. Anche la proposta dell'agnello precotto ha dimostrato uno sbocco molto interessante sul mercato.